Allora facciamo questo, però effetti Luca dovevo farmi pregare di più, però ho già qua, no ma non facciamo un bis, noi siamo anticonformisti, quando chiedono il bis non lo facciamo. Allora questo è un brano, prendo tempo perché così il nostro bassista va a prenderla a parte, no è un brano che pensate è andato sulla luna, è andato sul serio, è un brano scritto da Burt Howard nel 1968, così la mia parte dalla Paolo Limiti l'ho finita questa sera, è una canzone che ha cantato in tanti, a me ha portato tanto fortuna perché quella che poi aveva trasmesso Fiorello su Viva Radio 2 qualche anno fa e che mi ha permesso di fare, di farmi conoscere poi da tante persone. Devo fare delle imitazioni, maestro proviamo a fare quella roba che facevamo. Allora vi faccio sentire un pezzo di Autumn Leaves in giapponese, no non è inventato, è proprio giapponese. Ma, scusi da lei la tonalità o la do io? Ma, ok. Ma, dov'è nì? Ciri yuku? Watachin edu? Are a yo? No, non è una roba. Su chi, no, su chi se, non puoi cos'è che, su chi, vabbè. Roberto è rientrato, mi stavo prendendo, mi stavo divertendo, volevo fare adesso anche un nome. Ma il Dorelli? Ah beh, io sono cresciuto, poi mi dicono dei crooner. Ecco un altro che abbiamo dimenticato, guarda, di dire, grande Johnny Dorelli. Poi, a parte che, ragazzi, voi qua in Svizzera avete la lady, Caterina Varente, mamma mia, ragazzi. No, facciamo quello là. Mia mamma, poi mi dice se sei diventato crooner, mamma, le ho detto, mi mettevi a dormire con questa canzone. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lievi, di tutti i miei segreti che confidavo a te. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lievi, di tutti i miei segreti, resti ancora nel mio cuore, come allora. Basta, non andiamo sul reframe, mi sto addormentando. No, anche perché dobbiamo fare l'altro pezzo. Prima di quella, facciala la canzone, quella che facciamo sempre. Quando le dico, facciamo quel pezzo. E adesso andate via, voglio restare solo. Aspetta, ripar. E adesso spogliati, come sai fare... Tutto uguale. E adesso, l'ultimo è vicino. So è face... La minore. Perché... Aspetta. Mi dì la minore, maestro. Perché, ma perché... Anche gli occhiali. Questa notte... Questa notte... Ho le ore più lunghe... Che non passano mai... Oh, ma perché ogni... Oh, 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 oh... Sta parlandomi di te... Quando il sole tornerà